Mi chiamo Gianluca e lavoro a Londra come architetto. In collaborazione con dei progettisti romani abbiamo ipotizzato un progetto per rendere le spiegge più sicure data la situazione Covid. Il design si configura come un set articolato trasparente che definisce degli ambienti separati, semi aperti, che noi definiamo corner, adibiti agli utenti. L'ombreggiatura viene fornita da un sistema di coperture retraibili in PVC microforato, un materiale traspirante e allo stesso tempo ombreggiante. La separazione trasparente è invece realizzata in ITFI, un materiale innovativo, resistente ad alte temperature, facilmente igienizzabile e 100% riciclabile. Ovviamente di fondamentale importanza è anche la gestione dei flussi di persone e perciò proponiamo un sistema di percorsi e segnaletica che garantisce le distanze minime in ogni punto. Il nostro sistema è pensato per resistere nel tempo. Il design prevede la possibilità di smontare gli elementi divisori trasparenti e sostituirli con morbidi tendaggi che definiscono uno spazio mobile, elegante e riservato. Fondamentalmente proponiamo un prodotto modulabile, personalizzabile e di facile installazione, in modo tale da massimizzare il numero di postazioni utili nel rispetto delle nuove normative. Maggiori informazioni e contatti disponibili su www.sunsafe.it www.sunsafe.it